Scusa, si può? Salve. Senta, io sono venuto, che si è passato di qua, che io ho parlato col sindaco quando era venuto a Milano per i funerali di Arifò. Sì. Come abbiamo fatto una proposta, già in tempi per riscolta il referendum, abbiamo fatto un sito internet, votiamo per cambiare, difendiamo i diritti dei cittadini, adesso per le nuove elezioni, per far sì che ci sia un nuovo governo. E lei ha detto all'interno, passa per un appuntamento. Ci fa una richiesta scritta e noi mandiamo una richiesta al sindaco. Foglio di carta. E poi mi rispondete? Risponde all'ufficio, questo è l'ufficio protocollo, noi qui la protocolliamo e la mandiamo sulla segreteria al sindaco. Ah, no, no. E se la faccio tu. Posso? Guardi, la faccio mettere qui. Vieni, vieni. Grazie. Prego. Grazie. Aspetta, la biero, perché forse l'ho io. Ce l'avevo anch'io. Allora, devo scrivere come? Qui, alla sindaca di Roma. All'ufficio. Metta proprio alla sindaca di Roma. Allora, alla sindaca di Roma, è Viragi. Sì. Oggetto richiesta appuntamento. Oggetto richiesta appuntamento. Allora, adesso... Qui ci metta il sottoscritto. Il sottoscritto. L'appuntamento ci scrive al motivo e mi raccomando una cosa, mi perdoni, l'interrompo, perché poi la lascio tranquilla a scrivere. Sì, sì. Perché capita che molto spesso le persone dimenticano. Ciao. Il telefono e una mail, se c'è. Ah, sì, sì. Va bene. Va bene? Grazie. Io sto qui a fianco, se ha bisogno di me. Sì, sì, grazie. Prego. Salsa. Il sottoscritto, Villa Valerio, chiedo un appuntamento con lei per ancora... ancora riproporle, riproporle, è la richiesta di adesione alla campagna per i riti cittadini, dei cittadini che già era stata promossa.